Il questionario approfondisce i temi legati alla competitività delle imprese italiane. I dati raccolti permetteranno all'Istat di scattare un'istantanea del sistema delle imprese nel 2011. Nella pagina iniziale si chiedono i riferimenti del compilatore e dell'impresa e lo stato di attività dell'impresa. Seguono sette sezioni tematiche da compilare interamente. Una sezione conclusiva raccoglie notizie relative ai tempi e modi della compilazione. La prima sezione tematica riguarda la proprietà, il controllo e la gestione dell'impresa con focus su struttura proprietaria, scelte gestionali e strategie che l'impresa intende adottare nel prossimo futuro. La sezione 2 presenta quesiti sulle risorse umane, in particolare gestione, formazione, eventuali ostacoli o criticità rispetto all'assunzione di nuovo personale. La sezione 3 chiede informazioni sulle relazioni che l'impresa ha attivato all'esterno. La quarta chiede la posizione dell'impresa sul mercato, con riferimento a strategie produttive, percezione dei concorrenti, punti di forza e debolezza dell'impresa. Nella sezione 5 si trovano quesiti sull'innovazione, con specifiche sulle differenti tipologie, su eventuale sostegno pubblico ottenuto e difficoltà incontrate per l'introduzione di innovazioni. La sezione 6 riguarda le risorse finanziarie dell'impresa, con riferimento all'accesso ai finanziamenti e alle scelte in materia. La sezione 7 si concentra sull'internazionalizzazione produttiva, con focus su delocalizzazioni, aree geografiche interessate e soggetti che hanno fornito l'assistenza necessaria. Il prossimo video ti spiega come procedere nelle risposte ai quesiti.